ciao a tutti dunque ultimamente ho letto questo libro di belle londa in tedesco quindi è stato una bella esperienza nel senso che ho iniziato a capire un pochino come si scrive un libro in tedesco o meglio come è stato scritto un libro in tedesco e mi è piaciuto un sacco perché ho potuto almeno seguire la trama del libro dunque per farla breve cercherò di spiegare i punti che mi sono piaciuti di più e un po la trama del libro anche se mi hanno detto che molte volte quando parlo dei libri non si capisce niente dunque il tutto è ambientato in una scuola americana se ho capito bene e c'è una lezione appunto di storia dove si parla della seconda guerra mondiale della figura di adolf hitler alcuni si chiedono ma com'è potuto succedere cosa che siamo chiesti molti credo erano tutti assolutamente sicuri che non sarebbe più successo allora questo professore organizza un esperimento con questa studentessa questa scolaresca scusate e allora la cosa più incredibile che riesce a manipolare così tanto la situazione da rendere questa scolaresca sottoposta alla disciplina sottoposta al controllo sottoposta a appartenere insomma a questa corrente di velle al punto tale che le persone secondo me iniziano un po a dare dare di matto e a proteggere a tutti i costi questo di velle nessuno può criticare niente al punto che due fidanzati arrivano a scontrarsi perché appunto il giornale della scuola scrive cerca di scrivere contro di velle però c'è una reazione molto forte e alla fine insomma i genitori iniziavano a chiamare tutti i giorni i presidi di questa scuola contro questo professore che aveva fatto questo esperimento e anche la moglie inizia lamentarsi insomma ci sono delle reazioni per fortuna e alla fine lui dice che si sono si sono ricreate le stesse situazioni che ci sono state in germania quindi probabilmente questo questo regime può riaccadere soprattutto perché si basava molto sul bullismo cosa che si è poi vista nella società a livelli macroscopici enormi e niente questo è stato mio esperimento se ho sbagliato qualcosa vi prego di correggermi in modo gentile perché è il primo libro che leggo in tedesco quindi posso posso sbagliare poi io non sono una critica non sono una letteraria letterata insomma non ho studiato lettere quindi faccio quello che posso fatemi sapere quello che quello che ne pensate se avete letto il libro e potete correggermi meglio ancora così capisco meglio al limite posso rileggerlo e vi mando un bacio e buona serata ciao